Non è stato facile rifarsi da capo. Io mi sono dovuto spogliare da cima a fondo. Quando un attore ha recitato per anni e anni in un genere, mettendosi addosso tutti i lenocini, tutte le maniere di una recitazione artificiosa e tradizionale, preveduta, combinata, architettata, se vuole veramente ritrovare se stesso sotto i vestiti degli altri, senza offesa alla decenza, sapete che ha da fare? Sa da mettere nudo come Dio l'ha fatto. Studiavo da tutti i lati per cavarne fuori tutto il possibile, ma concludevo tutte le volte che era meglio lasciarlo com'era, senza effetti, semplice, scarno. Era una creatura qualunque, come se ne vedono tante in strada, nella vita, senza carattere, in colore. Doveva essere recitata così. La figura della moglie di Gennarino, nel lavoro di Edoardo, né bella, né brutta, né comica, né drammatica, assunse grande rilievo raggiungendo un livello artistico così alto da lasciare ammirati. Quella della vecchia zia in aria paesana fu sostenuta da me con dignità esemplare. Schivavo gli effetti, recitavo con semplicità estrema, rinunciando ad ogni vellità d'attrice, sino all'annullamento di ogni personalità. Tutto questo è vero, era la conseguenza di una direzione perfetta da parte di Edoardo, ma era anche il frutto di meritato studio da parte mia, che combattevo me stessa con tutte le vecchie tradizioni e difetti di cui abbondavo. E così noi abbiamo fatto. Io, Sorama e Fradama. Io, mia sorella e mio fratello. Nudi, nudi tutti e tre. E così ricominciare a rivestirsi, a poco a poco, coi panni nostri. Ma non panni belli e fatti, buoni per tutti i casi o tutti gli usi, ma abiti fatti volta per volta, tagliati sulla carne viva dei personaggi, messi insieme con la nostra commozione, a seconda della nostra diversa sensibilità. Un bel giorno Edoardo mi mandò a chiamare a casa sua. Vi andai piuttosto emozionata. C'è pure Peppino e insieme mi mettono a parte dei loro progetti. Una base di repertorio c'era, il resto si sarebbe messo su man mano. Collaborando ogni tre sarebbero venute fuori certamente delle buone cose. Non bisognava restarsi davanti alle difficoltà, bisognava lavorare e andare avanti. Edoardo mi parlava con confidenza, affettosamente, con stima, ed io non stavo in me dalla gioia. Dicevo sì, sempre sì a tutto, come eravamo giovani tutti e tre. Renato Simoni qualche tempo dopo avrebbe scritto, questi tre attori che messi insieme non formano il secolo. Quanto entusiasmo leggevano lo sguardo di Edoardo e Peppino. Alla compagnia qualche giorno dopo alle prove Edoardo disse che dovevamo considerarci dei volontari di guerra. C'era da combattere e vincere. Dopo anni e anni in cui abbiamo dovuto essere come erano gli altri, ora, grazie a Dio, si respira, mo' si immanuglia. Edoardo